Perdere peso più velocemente? Impara a fare bene la spesa. Sono sicuro che se hai deciso di stare in salute e metterti in forma hai svuotato tutta la dispensa dal cibo spazzatura che non ti serviva. Se ancora non l'hai fatto, fallo subito. Secondo step, vai a fare la spesa. Prima di uscire di casa, fai una bella lista, scrivi quello che ti serve realmente, cibo sano e prometti a te stesso che comprerai solo ed esclusivamente quello che c'è scritto nella lista. Prendi la lista e scrivi avvocato, sedano, spinaci, mirtilli, asparagi, fragole, more, carne gas fed, salmone selvaggio, pesce azzurro. Cerca di comprare pesce pescato, evita quello di allevamento, cerca di comprare carne di allevamento estensivo, evita quella economica ricca di antibiotici e ormoni. Compra solo verdure fresche e di stagione. Prendi il buon cioccolato frondente almeno all'85%, lascia stare quello al 50%, non far mancare grassi di buona qualità. burro giallo o ghee, olio extravergine d'oniva, avocado. Se vuoi dolcificare qualcosa, non prendere lo zucchero, prendi il miele, più scuro è e meglio è. Quando arrivi alla cassa, il tuo carrello deve essere il più colorato possibile e deve spiccare soprattutto il verde, un po' di rosso della carne di qualità e del salmone e un po' di bianco di pesce azzurro e di risobbasmati. Prendi spunto da questo tipo di spesa, vau da quella migliore per te, ma cerca di prendere solo le cose che ti servono rispetto alla lista della spesa. Fammi sapere qui sotto nei commenti se ti interessa un video dove faccio una mia spesa tipo.